Io ho la mia primogenita che si sposa fra tre giorni. Tanti auguri. Quando è nata mia figlia Cecilia? Il papà? È morto. Di solito i migliori se ne vanno per primi, ma non stavolta. La mia pupitta quando è nata? La mamma ha preso luce o...? No, le ho fatto bruciare la faccia da uno stregone per farla schiattare, ma si è solo rotta la gamba sciando. Beh, è già qualcosa. Un matrimonio finito da tempo. Mi scusi. Sei tu? Non puoi prendere l'aereo con quelle tette finte. Un matrimonio a cui non potevano mancare. Sì, tesoro, ma mi senti o no? Non ci sono più voli. Sono ore che siamo bloccati qui. Nel 2010, il risveglio di un vulcano islandese che offuscò i cieli d'Europa... Sì, tesoro. Il tuo vestito ce l'ho io. ...dimostrò che i problemi più seri... Brutto strinzo. ...non erano in cielo... Senti, stessi, si macchina. ...ma in terra. Vuoi fare a chi ha più stronzo? Io ti farò sputtare sangue. Ah, vettura non fumatori. 1932 chilometri. A giugno preparatemi a una guerra senza esclusione di colpi. Siete malati, anzi da ricovero. Non mi lasciate solo con lei. Durante il viaggio sotterriamo l'ascia di guerra. Ok. Serve il codice. Adesso mi apri lo sportello e torni al tuo posto, stronzetta. Dai produttori di Quasi Amici e dall'autore di Ju al Nord, una commedia incandescente. Incidente automobilistico in Austria. Porto di un furgone ed un aereo. Tentativo di fuga. Congratulazioni. Ne ho tutti i nostri anni sprecati. Oh, brilleremo molto allora. Sentite, noi vogliamo solo andare al matrimonio di nostra figlia. Sarà un po' complicato. Tutta colpa del vulcano. Che è successo? Devi aver fatto un incubo, almeno perso. Da giugno al cinema.